E' stato arrestato l'autore del gravissimo fatto di sangue che si è verificato ieri sera intorno alle 20.30 in via Generale Cascino. La polizia ha ammanettato Alessandro Pellegrino, 25 anni, pregiudicato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori è stato lui a sparare quattro colpi di pistola calibro 7,65, uno dei quali ha ferito al piede sinistro la vittima designata, Giuseppe Trubia, pastore di 19 anni. Un proiettile vagante ha raggiunto, frantumandolo, il finestrino lato guida di una Renault Clio in sosta nelle vicinanze, dentro la quale c'era una coppia di fidanzati rimasta illesa. Trubia, immediatamente soccorso in ospedale dal 118, non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni. Alla base del gesto, secondo quanto riferito dagli investigatori, ci sono futili motivi. Pellegrino è stato arrestato e recluso nel carcere di Contrada Balate, a Gela, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Fondamentali le immagini riprese dalle telecamere e dei circuiti di videosorveglianza della zona, addirittura carnefice vittima, poco prima si erano incontrati dinanzi al luogo teatro dell'episodio, abbracciandosi e salutandosi affettuosamente. Alessandro Pellegrino è un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Gela. Ieri ha agito da solo. Non si trova al momento la pistola. Come dicevamo, dei quattro colpi sparati, uno ha raggiunto una macchina. Dentro l'abitacolo c'erano l'avvocato Giuseppe Ricata, 35 anni, segretario del circolo PDG, la città e la sua fidanzata. Erano diretti al cinema. È successo quello che tu vorresti che non succedesse mai nella tua città. Penso un po' di una criminalità, una microcriminalità che giustamente esige una maggiore sicurezza in questa città. Mentre parcheggiavo la macchina, stavo andando al cinema, mi è arrivato un proiettile vacante. Quindi da lì ho trovato tutto il finestrino distrutto, scendo dalla macchina ho visto un ragazzo anche ferito al piede che sanguinava. È stato sicuramente uno spiacevole episodio dove tu rifletti e capisci quanto esige veramente in questa città controllare ed educare i giovani. È la riflessione immediata che hai fatto o qual è stata? No, la riflessione immediata è quando sono sceso mi hanno detto tutti che sono stato miracolato. Però al di là di questo, al di là del miracolo che mi sento veramente in questo senso ora un po' scosso, devo essere sincero, la riflessione è questa. Non ci può essere veramente una micro criminalità che ha delle pistole e spari in pieno centro storico della città di Gela.